Quante volte avete sentito che per manifestare quello che desiderate dovete riprogrammare il vostro inconscio? In questo video vi spiego la tecnica migliore per riprogrammare l'inconscio e che cosa si intende effettivamente con riprogrammare l'inconscio. Quindi se siete interessati a capire come fare per manifestare al meglio i vostri desideri e soprattutto super velocemente, guardate questo video fino alla fine. Ciao, io sono Eris e sono una coach di manifestazione. Se hai difficoltà a manifestare oppure semplicemente ti interessa questo argomento ti invito ad iscriverti a questo canale perché non parliamo solo di manifestazione ma anche di crescita personale, spiritualità, autostima e tantissimi altri argomenti. Oggi spieghiamo effettivamente che cosa vuol dire riprogrammare l'inconscio perché è importante riprogrammare l'inconscio e soprattutto vi spiego una tecnica secondo me fondamentale ma soprattutto super efficace per riprogrammare l'inconscio e manifestare super velocemente tutti i nostri desideri. Innanzitutto che cosa vuol dire riprogrammare l'inconscio, riprogrammare le vecchie credenze? Allora, noi crescendo, andando avanti con la nostra vita, impariamo tantissime cose. Come le impariamo? Attraverso l'osservazione e attraverso la ripetizione. Quindi noi vediamo qualcuno che fa qualcosa oppure sentiamo qualcuno che dice una cosa e a forza di vederla e a forza di sentirla alla fine la apprendiamo. Cioè è proprio il modo in cui noi anche impariamo a parlare se ci fate caso. Perché impariamo a parlare? Come impariamo a parlare? I nostri genitori, le persone più grandi intorno a noi ci ripetono in continuazione una parola fino a che noi non la replichiamo. Questa cosa la fa anche il nostro inconscio. Cioè a forza di osservare cose, situazioni, ma anche sentire persone che parlano di determinati argomenti, noi automaticamente sviluppiamo delle credenze, sviluppiamo dei pensieri effettivamente. Il punto qual è? È che non tutte queste credenze, non tutti questi pensieri ci portano un effettivo vantaggio perché la maggior parte delle volte come società siamo proprio costruiti per ragionare in un certo modo e molto spesso è un modo negativo. Fate caso per esempio al discorso dei soldi. Quindi fare soldi è super difficile, la classica frase il denaro non cresce sugli alberi, vero? Però non è neanche una cosa così tanto difficile da ottenere come magari possiamo aver imparato a credere. Quindi tutte queste credenze, tutti questi pensieri che noi sentiamo ripetere in continuazione anche il fatto che è difficilissimo farcela, è difficilissimo realizzare i propri sogni, tutte queste cose qui ad un certo punto diventano dei nostri pensieri spontanei. Cioè il nostro inconscio le assorbe e automaticamente quel pensiero ci parte di default quando magari si parla di un certo argomento. Quindi se si parla di denaro, noi siccome abbiamo osservato, abbiamo appreso quel tipo di pensiero, quello sarà il nostro primo pensiero, cioè la prima cosa che ci viene in mente quando si parla di quell'argomento. E questo è il motivo per cui molto spesso non riusciamo a manifestare così facilmente il denaro, l'amore, qualsiasi altra cosa, perché abbiamo delle credenze, chiamiamole limitanti, nei confronti di quella cosa. Ora, io non voglio dire che le credenze limitanti siano qualcosa che per forza bisogna andare ad esterpare alla radice perché altrimenti non riusciamo a manifestare. Perché io credo fermamente nel fatto che se noi affermiamo una cosa, la riaffermiamo, continuiamo a riaffermarla nella nostra mente, riusciamo tranquillamente ad ottenerla. Il discorso qual è? È che sicuramente si vive meglio senza quel tipo di pensiero. Quindi per quello è importante, tra virgolette, riprogrammare il nostro inconscio, perché nel momento in cui noi riusciamo a riprogrammare l'inconscio, automaticamente è molto più facile gestire i pensieri, è molto più semplice scegliere i pensieri giusti, quindi scegliere i pensieri che effettivamente ci aiutano a manifestare. Anche quando facciamo le affermazioni non andiamo ad incontrare tutta quella resistenza, quindi magari ci vuole molto meno tempo per manifestare una cosa. Perché se io ho delle credenze limitanti, sempre tra virgolette, se ho delle credenze limitanti nei confronti delle relazioni, e quindi sono abituata a pensare che nelle mie relazioni va sempre tutto male, mi lasciano sempre tutti, è una cosa che ho appreso con la ripetizione, è una cosa che ho appreso col tempo e con l'osservazione, e di conseguenza diventa un mio pensiero. Automaticamente nel momento in cui io mi trovo in una nuova relazione, la mia mente che cosa fa? Inizia a dire, si va bene, ma tanto questo te lascia, si va bene, ma tanto finisce, si va bene, ma tanto non ti vuole veramente. È normale che succeda questo, perché la mente ricollega subito a quello che conosce, quindi ricollega al passato, ricollega a tutti i vecchi pensieri che abbiamo, di conseguenza quando voglio manifestare una relazione, mi risulta molto più difficile, faccio proprio molta più fatica a credere alle affermazioni, affermazioni, faccio più fatica a credere al fatto che tutti mi vogliono, che tutti mi amano, che le mie relazioni sono sempre perfette, è normale. Non sto dicendo che bisogna per forza credere fermamente alle proprie affermazioni quando si ripetono, perché le affermazioni servono proprio per quello, vanno ripetute proprio perché arriviamo a un certo punto in cui iniziamo a crederci, quindi non è necessario subito credere alle affermazioni, non sto assolutamente dicendo questo, però se vogliamo in un certo senso facilitarci il lavoro, almeno per mia esperienza personale, perché ricordatevi che io parlo sempre per esperienza personale e per esperienze di persone che ho seguito attraverso il coaching, oppure persone proprio vicine a me, per mia esperienza personale vi posso dire che per me è stato molto più semplice prima smontare quelle credenze, quei pensieri e poi affermare se non riuscita personalmente a manifestare molto più velocemente facendo in questo modo. Quindi se è un modo con il quale voi vi potete trovare bene, provate a fare questo, provate a riprogrammare in un certo senso i vostri pensieri. Ora, come facciamo a riprogrammare i pensieri? Siccome il nostro inconscio e la nostra parte conscia difficilmente si incontrano, perché quando noi siamo svegli, siamo coscienti, è presente la nostra parte conscia. L'inconscio è più attivo nel momento in cui magari dormiamo, oppure in realtà anche in momenti in cui non è particolarmente richiesta la nostra concentrazione. Ecco perché vi dico sempre che per esempio per fare le affermazioni robotiche, a proposito, se volete un video sulle affermazioni robotiche fatemelo sapere nei commenti e tra l'altro ho fatto anche un altro video completamente dedicato alle affermazioni in generale, quindi se volete recuperarvelo io ve lo lascio sopra da qualche parte, vi comparirà la i con il pallino in cui compare il video. Anche per quello appunto dicevo che quando si fanno le affermazioni robotiche è meglio farle in momenti in cui non abbiamo particolare concentrazione su una cosa, quindi che ne so, stiamo lavando i piatti, stiamo facendo una passeggiata, insomma azioni meccaniche, azioni che facciamo quasi in automatico durante le quali la nostra mente comunque sarebbe libera di vagare. Quindi per evitare che la nostra mente vada verso strade che non ci convengono o pensieri che non ci fanno stare bene, in quel momento ripetiamo le affermazioni perché il nostro inconscio è più attivo, perché non siamo concentrati sull'azione che stiamo facendo, la nostra mente è libera di vagare e quindi se noi ripetiamo le affermazioni in quel modo arrivano all'inconscio molto più facilmente e molto più velocemente. Stessa cosa succede quando ci stiamo addormentando oppure quando siamo proprio appena svegli, cioè avete presente proprio quella fase in cui ancora non avete aperto gli occhi, non riuscite a capire se siete svegli o meno, se dovete affermare, affermate in quel momento, perché quello secondo me, sempre per esperienza mia personale, è il momento migliore in assoluto per affermare, perché in quel momento lì la vostra mente conscia non è proprio in grado di opporre resistenza a quello che state dicendo. Quindi scegliete quei momenti lì per affermare, poi ovviamente se volete prendervi del tempo durante la giornata in cui vi mettete un timer di 10 minuti e affermate per 10 minuti, fate tranquillamente anche quello o in qualsiasi altro momento della giornata. Se però dovete proprio scegliere dei momenti che a parer mio sono più efficaci, vi consiglio questi, quindi quando vi state per addormentare, appena svegli e soprattutto durante dei momenti della giornata, diciamo un po' più spenti, in cui siamo un po' meno concentrati. Per quanto riguarda invece il momento dell'addormentarsi, e qui arriva la tecnica che a me personalmente ha completamente svoltato la vita e non sto scherzando, non ve lo starei neanche a dire se non fosse stata così importante per me questa tecnica, arriviamo alla tecnica di Neville Goddard, chiamata SATS, S-A-T-S, che sta per Stay Again to Sleep. Praticamente il momento in cui ci stiamo per addormentare. Come funziona questa tecnica? È molto molto semplice e vi assicuro che questa tecnica vi darà dei risultati praticamente immediati. A me è successo questo, a me è bastato fare questa tecnica per 3-4 giorni e ho ottenuto quello che volevo, quindi provatela perché secondo me vi può aiutare tantissimo. Come funziona questa tecnica? Vi basterà nel momento in cui vi state per addormentare, quindi state andando a letto, siete proprio tranquilli, rilassati completamente. Mentre vi state per addormentare, scegliete una scena da visualizzare nella vostra mente. Una scena che dura tra 3 e 5 secondi. Quindi una scena molto breve che potete ripetere in loop nella vostra mente. Voi la ripetete in loop fino a che non vi addormentate. E vi assicuro che questa tecnica vi dà risultati, vi ripeto, praticamente immediati, capace che anche il giorno dopo voi riuscite ad ottenere quello che avete visualizzato la sera prima. È molto ma molto possibile che succeda questo. Quindi semplicemente prendete questa scena e ve la immaginate in loop. Se fate fatica a visualizzare, fatelo con le affermazioni. Scegliete un'affermazione sola che racchiuda quello che volete manifestare e ripetetela in loop nella vostra mente fino a che non vi addormentate. Se fate fatica ad immaginare una scena in movimento, potete anche immaginare soltanto un'immagine ferma. Non fa differenza. L'importante è che voi riuscite ad andare ad addormentarvi con questa scena nella vostra mente, con queste immagini nella vostra mente. Perché questa cosa qui va completamente a ricondizionare il vostro inconscio. Cioè va proprio diretta, va dritta all'inconscio senza passare dalla nostra parte cosciente, quindi senza passare da tutti i dubbi, da tutte le perplessità, da tutte le paure. Va proprio dritta. Dritta verso l'inconscio e più arriva dritta verso l'inconscio e più velocemente si manifesta. Perché noi manifestiamo H24, manifestiamo in continuazione attraverso il nostro inconscio. Quindi per quello è importante scegliere i pensieri giusti da fare e fare in modo che questi pensieri arrivino all'inconscio. Poi il nostro inconscio ovviamente possiamo riprogrammarlo attraverso tante altre cose. Questa è la tecnica che io reputo più efficace. Anche le affermazioni in realtà sono un modo che abbiamo per cambiare tutti i pensieri che abbiamo a livello inconscio. Quindi possiamo scegliere le affermazioni, possiamo appunto utilizzare questa tecnica. Potete fare effettivamente tutto quello che volete, come sempre anche lo scripting. Tutte le varie tecniche di manifestazione in realtà servono anche a quello. Però vi ripeto, questa tecnica per me è stata quella che mi ha dato i risultati più immediati e soprattutto più duraturi nel tempo. Quindi mi sento di consigliarvela proprio perché mi ha aiutato tantissimo e l'ho reputato il modo proprio più efficace per effettivamente arrivare dove volevo arrivare. Quindi provate questa tecnica, fatemi sapere nei commenti se funziona, come va, se vi piace, se vi dà dei risultati, in quanto tempo magari vi ha dato questi risultati. Una cosa importante che però ci tengo sempre a precisare è che le tempistiche sono diverse per ognuno di noi e soprattutto meno vi focalizzate sul tempo e più velocemente arriva. Questo ve lo dico sempre e ve lo ripeterò sempre. Non state lì a pensare, ah è passato un altro giorno, vedi, allora è passata una settimana, non riesco. No, no e assolutamente no. Meno vi focalizzate sul tempo, più rimanete concentrati sul momento presente e più le cose succedono velocemente. Questo ve lo posso assicurare, assolutamente. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato d'aiuto. Vi invito a lasciare un like se questo video vi è piaciuto e anche ad iscrivervi al canale. Vi ricordo inoltre che se avete bisogno di aiuto per manifestare qualcosa nello specifico, come una persona specifica, al lavoro dei vostri sogni, quello che volete, nella descrizione di questo video trovate i link ai percorsi di coaching che si possono fare con me insieme anche al Diario della Gratitudine che ho pubblicato con Amazon. Lo trovate anche quello nella descrizione di questo video. Vi ricordo anche un'altra cosa importantissima, che la prima settimana di ogni mese è possibile fare la sessione di coaching gratuita di 15 minuti tramite videochiamata con me. La potete richiedere inviando un'email all'indirizzo che trovate sempre nella descrizione di questo video. Vi ringrazio nuovamente per avermi seguita e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Vi ringrazio nuovamente per avermi seguito.